Vittoria e qualificazione Le due sono riuscite a esprimere meglio loro il loro gioco e ci hanno messo abbastanza in difficoltà. Sono molto contenta di aver dato una mano alla squadra anche questa volta e che si è finito bene, quindi torniamo a casa tutti contenti e non vediamo l'ora di andare in Giappone. In Giappone cosa ti aspetti? In Giappone non mi è mai successo e spero di fare bene perché ogni vittoria lì sarà importante e soprattutto tutte le squadre saranno molto forti, quindi insomma saranno gli scontri ad altissimo livello, il vertice, quindi ogni partita conterà tanto. Però per noi è già un minuto. Adesso pensiamoci tutti al risultato di oggi che è una qualificazione, che a me non mi è mai successo, quindi sono anche emozionata per questo.